Ciao a tutti, bentornati sul canale giornalismo del Cuore Italiano Jessica ha infatti accusato Lulu di essere poco ordinata durante una preparazione di un dolce fatto per festeggiare l'ultima serata passata dai sei inquilini all'interno della casa più spiata d'Italia In questa circostanza Lulu passa immediatamente all'attacco, accusando Jessica di essere una persona poco normale per aver iniziato un litigio su un argomento così poco importante come questo La sorella maggiore chiude la conversazione, ammettendo di non veder l'ora che finisca la sesta edizione del GFV per non dover stare con lei 24 ore su 24 . Se ne è parlato anche su altri media.Lulù, prima di essere eliminata, ha rivelato che sotto la capanna c'è stato un bacio tra Jessica e Barù e di fatto ha sconfessato la sorella Poi il gesto che spiazza, Barù ha subito sbollito, prima tiene la coda del vestito a Jessica per non farla inciampare, contrattato Foto, ufficio stampa Endemol Shine Italy, Shooter's Talk Music, Dreams from Ben Sound com. UFVIP, l'accordo tra Barù e Jessica, cosa faranno nell'ultimo scontro Jessica e Barù cosa è successo stanotte? Alla telecamera ha fatto un'importante dichiarazione, preceduta dalla confessione di voler solo tornare a casa e mangiare sushi, cosa vorrei fare adesso? GFVIP, Lulù se la si e attacca la sorella Jessica, tu non sei normale FVIP, Lulù se la si e attacca la sorella Jessica, tu non sei normale Quest'ultima, in confessionale, ha parlato di un bacio che ci sarebbe stato tra la sorella e Barù nella capanna La finale del grande fratello VIP non può o non dedicare al pubblico di Canale 5 una parentesi sul rapporto tra Jessica Selassie e Barù GFVIP, finale, Jessica cos'è successo con Barù nella capanna? GFVIP, finale 2022, Jessica Selassie a vincitrice con record ecco quale Nella mattinata del 14 marzo, come riportato testualmente dal sito 361 Magazine, le sorelle Selassie hanno litigato nuovamente all'interno della casa Jessica, durante la preparazione, accusa Lulù di aver sporcato la cucina durante la preparazione e Lulù, delusa dalle sue parole, inizia ad alzare la voce contro sua sorella, si può pulire, oddio smettila Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video